A 23 anni e però suona e canta come un musicista, come un grande musicista, veramente maturo, ha suonato persino con i Rolling Stones a Londra. E io prima di conoscerlo sognavo di partire per un lungo viaggio on the road con un suo cd nello stereo della macchina. Adesso che l'ho conosciuto vorrei partire direttamente con lui. Ho il grande piacere di annunciarvi, gente di primo maggio, Paolo Nutini! ERA! 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 Vem'allcompo por moi che� di, Wadahk in time, feelin' qua e each step. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti